Coach, una vittoria importante contro una squadra molto fisica, dopo un primo tempo direi dominato, scafati per non rientrare, ma direi scavrava a portare a casa la vittoria. Cosa ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza a tutto, ha fatto la differenza come già avevamo detto, la qualità dei primi due quarti, perché scavare un margine certe volte non serve, ma certe volte ti permette anche di poter assorbire un po' il rientro. Noi abbiamo giocato due quarti di grandissimo livello, di grandissima qualità, poi come sempre il terzo e quarto cambia il basket, diventa un basket più aggressivo, più emozionale. Noi da questo punto di vista dobbiamo costruire un po' di consapevolezza, un po' di armatura, di corazza, però questa volta siamo riusciti a gestire e credo che alla fine quello che sia cambiato è che siamo stati coesi e consistenti fino anche nel momento di difficoltà. Oggi rispetto ad altri punti dove i protagonisti di Biella sono stato Sims, oggi invece più una misura è più di squadre, quindi con più giocatori e più italiani a fare la differenza. Ma guarda, io credo che quando le squadre cambiano protagonisti significa che stanno acquisendo identità. Io penso che Sims abbia giocato sui spazi che aveva nelle ultime partite, credo che chiaramente le squadre stanno cercando di porre dei rimedi a questa sua talvolta onnipotenza offensiva e questo apre spazi ad altri giocatori e così sarà anche nel futuro. Adesso cercheranno chiaramente di correggere alcuni giocatori che oggi sono stati protagonisti e noi dovremmo essere bravi a trovarne anche.